Ebbene ci siamo. Questa volta la pandemia da Covid-19 potrebbe davvero essere finita. Buongiorno a tutti voi cari amici, amici qui dei social, cari lettori della difesa del popolo. Benvenuti a questa nuova puntata di Questa e la difesa. E come vedete dalla copertina qui accanto a me, questa settimana ci concentriamo ancora una volta, se volete, nel corso di questi ultimi tre anni l'abbiamo fatto molte volte, sulla pandemia da Covid-19. Questa volta però il futuro è sereno. Lo dicono gli esperti, lo dice una pronuncia imminente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Covid-19 non rappresenta più una pandemia. La situazione emergenziale che ha stravolto le nostre vite è oramai alle spalle. Allora ci siamo chiesti quali insegnamenti ci ha lasciato per il futuro quando Dio non volesse ma tornasse qualche altra pandemia, qualche altro virus facesse spillover, quindi il cambiamento di specie e ci raggiungesse per portarci una sfida tale e quale a quella che abbiamo affrontato dal febbraio 2020 a oggi. Bene, allora in questo numero della difesa del popolo del 7 maggio 2023 abbiamo sentito alcuni esperti, tra cui il professor Giorgio Palù, padovano di adozione, presidente dell'AIFA, anche il dottor Rossanese, Andrea Rossanese, anche gli padovano, esperto in malattie tropicali, che ci fanno un po' il quadro della situazione. Buona lettura. Naturalmente il presidente Zaia ha detto in questi giorni che andrà gradualmente a implementare il decreto del ministro Schillacci che va a governare a partire dal 1 maggio l'eliminazione anche nelle strutture sanitarie, tranne alcuni casi, delle mascherine e quindi andiamo un po' a vedere che cosa ci aspetta in questi prossimi mesi. Altro tema importante della difesa del popolo di questa settimana, la giornata dell'Europa, martedì 9 maggio. Martedì 9 maggio è anche l'anniversario della morte di Sophie Scholl. Sophie Scholl è stata una ragazza antinazista che è vissuta proprio però in quegli anni terribili per la Germania e per l'Europa, fondatrice della Rosa Bianca. Abbiamo fatto quattro puntate in queste settimane in cui abbiamo raccontato questa esperienza di reazione al regime e a tutto ciò che ha rappresentato il nazionalsocialismo in Germania e in Europa. Quindi voce della nuova Europa, questo pezzo di Paolo Ghezzi, presidente della Rosa Bianca italiana, entra proprio nell'attualità che rappresenta ancora oggi la Rosa Bianca di allora. Balzo invece in sezione chiesa dove non potevamo non aprire con San Leopoldo Mandic che celebriremo venerdì 12 maggio e la festa sarà animata dal vicariato di Monselici che offrirà l'olio e molte altre cose al santuario di Santa Croce qui nella città di Padova. Bene però allora sono molte le iniziative, ne abbiamo parlato con padre Flaviano Gusella che regge il santuario da tempo oramai perché in verità dopo il covid già dall'inizio dell'anno i fedeli stanno tornando sempre più numerosi anche da padre Leopoldo. Un altro passo in avanti perché c'è una possibilità interessantissima per condividere con preti e religiosi i momenti della preghiera e della liturgia delle ore e in particolare vedete le lodi con i canonici della cattedrale, i vespri con le clarisse di via Cavalletto sempre a Padova e la compita con i monaci Benedettini di Santa Giustina. Ce ne parla Don Antonio Oriente che è il delegato vescovile per la vita consacrata. Per chi di voi è di Padova o dintorni e ha interesse leggete questo pezzo interessante con questa bella opportunità. Cominciamo anche a scaldare i motori perché come vedete qua su i futuri tre preti della nostra diocesi oramai sono pronti, mancano pochissimi giorni al 28 maggio, giorni in cui saranno ordinati in cattedrale, li riconoscete allora il Don Loris Bizzotto, Don Francesco Trovo e Don Ivan Catanese qui raffigurati proprio a Prato della Valle di fronte a Santa Giustina assieme al vescovo Claudio. Buona lettura anche qui. Facciamo un altro passo in avanti, rimaniamo in chiesa perché i centri di ascolto Caritas, quelli su base vicariale, compiono dieci anni e in dieci anni sostanzialmente hanno davvero rivoluzionato sia la vita della Caritas sia la possibilità delle comunità e dei singoli cristiani di mettersi a disposizione degli ultimi e dei più fragili. Neanche stiamo a guardare quanto sono stati utili e importanti proprio in quei tre anni di pandemia, visto che è il tema trasversale di questa settimana, ma proprio veramente sono stati importantissimi per la nuova strutturazione della Caritas che prima invece era tutta concentrata sull'unico centro di ascolto che si trova in via Bonporti a Padova ed era quello diocesano. Quindi abbiamo fatto il punto perché ci sembra veramente molto molto importante a dieci anni di distanza. buona lettura di questa pagina 14. Ancora con la Caritas perché il 20 maggio per la prima volta a Ronchi di Casal Serugo le Caritas si troveranno per fare festa. È veramente la prima volta, sono stati i Caritas Local Lab di cui vedete parliamo in due articoli nella parte bassa di questa pagina 15 a suggerire la possibilità di ritrovarsi, di condividere, di stare insieme anche oltre alle operazioni strettamente legate al servizio. Quindi si troveranno e faranno festa proprio gli operatori Caritas. Leggete tutto anche come fare per aderire se già non foste informati o vi interessasse partecipare. Passiamo ora in storie perché abbiamo una storia che nella sua drammaticità rappresenta tantissimo di quello che è il nostro paese, la città di Padova, la diocesi di Padova, il Veneto per quanto riguarda la solidarietà. Parliamo di accoglienza e di accoglienza di migranti, parliamo di Mamadou Fofanà, parliamo anche di Refugees Welcome, questa bella realtà che organizza l'accoglienza proprio in casa. Dunque alcune settimane fatti c'è stato un incontro tra le famiglie che hanno aderito alle cucine popolari. Noi eravamo presenti e abbiamo deciso di raccontarvi questa storia di Elisabetta Giovanni, coniugi, con il loro figlio Carlo che da tempo abita ormai fuori casa perché è grande, hanno deciso di accogliere nel 2021 Mamadou. Di fatto hanno vissuto con lui gli ultimi mesi della sua vita e l'hanno aiutato a tornare a casa proprio prima di morire per poter salutare la mamma nel Ghana da cui proveniva. Quindi leggete questa storia che davvero mette i brividi proprio, però questa è la realtà di chi migra, di chi accoglie, questa è la realtà, quindi buona lettura davvero. Facciamo poi un salto all'interno del giornale e anche a livello di temi, come sapete la difesa mette insieme tante storie, tante notizie dal tenore diverso. Andiamo a Montagnana perché il prosciutto sarà naturalmente il protagonista della sua festa dal 10 al 21 di maggio. Abbiamo titolato il crudo in maniera che tutti lo capiscono anche se sappiamo che è il dolce, il prosciutto proprio dei 15 comuni sparsi tra Padova, Vicenza e Verona. In questo articolo di fatti però, della nostra sezione di fatti, abbiamo deciso di andare a vedere quanto incide a livello economico sul territorio questo prodotto così apprezzato e che a mano a mano sta sempre di più diffondendosi nei gusti, nella conoscenza, nella notorietà del pubblico non solo in Veneto. Pensate che si è già cominciati dal 1837 con il primo prosciuttoificio proprio sul territorio. Altre due notizie prima di salutarvi. La prima è una sorta di scoop perché attenzione c'è un musicista padovano trapiantato a Madrid da 15 anni che rilancia finalmente una produzione sostanzialmente dimenticata di Lucio Battisti. Abbiamo titolato il Lucio Battisti esoterico quello che ha continuato a produrre dopo lo scioglimento del sudalizio con Mogol. Ebbene, questo musicista padovano Paolo Boarato, noto però come Pol Potacci, come nome d'arte, proprio dalla Spagna, ha dato vita a questa produzione legata al poeta parodiere Panella con un nuovo album. Tra l'altro proprio l'8 di maggio uscirà su Spotify il primo singolo tolto da questo album. E così vi raccomando questa lettura perché è una notizia veramente unica nel suo genere di un cantante famoso universalmente di cui però conosciamo solamente una parte, solamente una spiga della sua produzione quando c'è veramente un campo di grano da scoprire per quanto riguarda Lucio Battisti. E infine chiudiamo quel festival biblico perché dal 18 al 21 maggio torna a Padova città e abbiamo deciso di dedicare come ogni anno quattro pagine intervistando i protagonisti, dandovi il calendario degli appuntamenti. Lo diamo in anticipo di qualche giorno in maniera che ci si possa organizzare. Grazie per l'attenzione, questa è La Difesa, continuate a seguirci su www.difesapopole.it, su tutti i nostri canali social network e arrivederci alla prossima settimana.